buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di KPMG che si tiene oggi con il Politecnico di Torino mi presento sono Gaia Pinto e mi occupo di talent acquisition per KPMG insieme a me oggi c'è la collega Giulia Pagliarulo che insieme vi introdurremo in tutto il mondo di KPMG a 360 gradi oggi abbiamo anche la fortuna di avere due testimonial Federica Pastore e Luca Garreffa che ci racconteranno appunto la loro esperienza come consulenti e che cosa significa fare consulenza in KPMG allora intanto vi introduciamo su un po' un po' di numeri sul network internazionale di KPMG intanto siamo presenti in 147 paesi nel mondo con un totale di 219 mila professionisti questi sono appunto i nostri pilastri della consulenza su cui poi andremo un po' più nel dettaglio che è la parte di Audit Tax Illegal Accounting Advisory siamo fieri di dirvi che abbiamo assunto nell'anno fiscale 2019-2020 44 mila giovani neolaureati professionisti che stiamo facendo crescere nel nostro network siamo abbiamo un global mobility in cui sono iscritti 3 mila professionisti che permettono di fare anche un'esperienza in 90 paesi dove abbiamo appunto le nostre sedi KPMG siamo presenti sui social quindi mi raccomando se non ci state seguendo procedete pure a seguirci andiamo un po' più nel dettaglio di quello che è il mondo KPMG in Italia l'età media di 32 anni di questo siamo molto fieri perché portiamo sempre dentro nel nostro network freschezza e tra i vari livelli quindi tra i junior e senior abbiamo veramente pochissimi anni di differenza che vanno dai 2 ai 3 anni in Italia abbiamo 4.250 professionisti suddivisi in 25 sedi nell'anno fiscale 2019-2020 abbiamo fatto 1.200 nuovi inserimenti il ricavo anno del 2019 650 milioni di euro perciò dire che siamo decisamente soddisfatti poi puntiamo sempre in alto nella categoria dei servizi professionali di universum siamo a secondo posto d'Italia e anche questo siamo molto molto fieri eccoci qua entriamo un po' più nel dettaglio di quelli che sono i nostri servizi di consulenza allora la parte audit che riguarda appunto tutto il mondo della revisione contabile tax e legal quindi consulenza legale tributaria advisory che è la consulenza appunto strategica pura che è quella che è un po' di vostro interesse eh che poi vi spiegheremo meglio io e Giulia e si suddivide in tre macro aree risk consulting management consulting e di advisory e poi c'è tutto il mondo dell'accounting in che cosa ci differenziamo e in che cosa ci piace anche proporci ai nostri clienti noi abbiamo tanti team composte da persone diverse sia per background teorico che abilità art e trasversali questo ci permette di offrire un servizio completo a 360 gradi ai nostri clienti in modo appunto da dargli una visione di insieme su tutte le conoscenze che possiamo dargli ma anche per prospettive ed esperienze quindi questo potrebbe essere assolutamente un plus anche per le nuove persone che entrano da noi perché avranno modo di confrontarsi con persone insomma etereogenee da cui poter apprendere avere uno scambio e adesso andiamo un po' più nel vivo no nel senso che tu studente, giovane, neolaureato, politecnico, orino che cosa potrai fare in KPMG? Inizio a introdurvi la linea di servizio appunto di cui mi occupo che è quello dell'information risk management. Che cosa si intende per information risk management? Tutto ciò che riguarda la linea di sicurezza informatica e rischio et. La linea del servizio dell'information risk management è un po' particolare perché si divide in due anime. Va più sulla parte dell'IT audit quindi un po' che conta la revisione contabile e sulla linea dell'advisory della consulenza pura. Inizio un po' a introdurvi ciò che è l'IT audit. L'IT audit ha il compito di verificare la sicurezza dei sistemi informativi utilizzati dai nostri clienti per edigere il loro bilancio di esercizio. Quindi sostanzialmente valutare che dati siano corretti a livello di sicurezza informatica e non manomessi. Quindi qua entra tutto il mondo dell'IT compliance e GDPR e ISO 27001 che fa parte appunto di tutto ciò che era la gestione della sicurezza delle informazioni. Il mondo IT audit controlla anche tutto ciò che sono le normative che verificano la veridicità del bilancio annuale. E poi c'è tutto il mondo dell'IT external audit che si occupa proprio di svolgere degli assessment sulle tecnologie impiegate dai nostri clienti con successivo rilascio di attestazioni a quelle organizzazioni che soddisfano dei criteri specifici di sicurezza, disponibilità, integrità, riservatezza e privacy delle informazioni. Poi invece arriva un'altra anima che è quella proprio della cyber security. Il mondo della cyber security anche qui ha diverse peculiarità. C'è la parte un po' più pratica che è quella legata alla cyber defense. Quindi qua parliamo di penetration test, vulnerability assessment e tutto ciò che riguarda l'incidence response che sostanzialmente noi verifichiamo come reagiscono i sistemi e i servizi IT dei nostri clienti a delle simulazioni di attacco malware. Poi abbiamo delle attività di più alto livello legate alla security strategy and governance. Quindi sostanzialmente facciamo dei risk assessment e valutiamo la maturità delle organizzazioni con successiva scrittura di policy e procedure sempre in tutto l'ambito della sicurezza informatica. Entriamo nel mondo anche della GRC Technology Controls Integration. Proprio la parola stessa lo dice. Noi sostanzialmente proponiamo ai nostri clienti un'integrazione di più tecnologie che collegano business, sicurezza informatica a tutto il mondo della governance, risk e compliance. Tra questi tool noi proponiamo SAP, Oracle e ServiceNow. Poi c'è tutto quello che riguarda gli emerging technology risk. Che cosa si intende? Ormai sappiamo che tutte le organizzazioni utilizzano il cloud per trattenere o inviare informazioni sensibili. Quindi che cosa succede? In questo caso il rischio è molto elevato e quindi i nostri esperti vengono chiamati per far sì di mitigare il rischio IT, qualora appunto vengono inforniti dati sensibili attraverso il cloud. E poi arriva a tutto il mondo delle regulatory compliance e qui tocchiamo tematiche su antiriciclaggio, finanziamenti al terrorismo, legge 262 per le banche e segnalazioni di vigilanza. Lascio la parola ora alla mia collega Giulia che invece vi introduce su tutte le altre nostre linee di servizio dell'advisory. Giulia ti sentiamo, mi sa che c'è il microfono ancora staccato. Scusatemi, dicevo l'advisory diciamo che è una linea di servizio abbastanza tra virgolette nuova, ma che perché KPMG risulta sempre essere molto più famosa per la parte legata all'audit, ma in realtà ormai soprattutto negli ultimi cinque anni è cresciuta moltissimo e ha raggiunto praticamente le stesse dimensioni della parte audit. Nello specifico io lavoro nella parte di IT advisory per l'appunto che conta sostanzialmente ormai 1800 dipendenti o suddivisi tra MC che si occupa di riorganizzazione dei processi e poi abbiamo la parte enterprise che invece lavora sull'ottimizzazione implementativa lato IT. All'interno di MC abbiamo due linee di servizio, cioè Lighthouse che è il centro di eccellenza, il polo tecnologico che si occupa di sviluppo di soluzioni artificial intelligence e quant'altro e poi abbiamo Nolan Norton che fra le tante cose di cui si occupa si occupa anche di reingegnerizzazione dei processi lato IT, quindi software selection, riorganizzazione tecnologica e quant'altro e abbiamo in colla appunto una persona che lavora proprio all'interno di Nolan che è il dottor Garreffa Luca, al quale eventualmente potrete fare tutte quante le domande del caso qualora sorgessero naturalmente. Allora a proposito di Champion, per quanto riguarda il mondo KPMG parliamo di Champion quando vogliamo indicare delle specifiche caratteristiche che vanno a caratterizzare i nostri dipendenti, cioè sostanzialmente che caratteristiche deve avere una persona per essere considerata come tale? Deve essere un leader, quindi avere una forte attitudine naturalmente a lavorare con gli altri, ma soprattutto a saper ispirare e guidare le persone con cui lavora. Deve quindi ispirare fiducia, deve essere una guida e un incoraggiamento per il proprio team, promuovere l'innovazione e avere un'etica abbastanza radicata e abbastanza forte sostanzialmente. Queste sono le caratteristiche a cui teniamo in modo particolare, in quanto se vi troverete a lavorare con noi, il lavoro in team è sostanzialmente la cosa fondamentale. Siamo ovviamente un'azienda, come potete vedere dall'offerta formativa, che punta moltissimo su quello che è il training. La maggior parte delle persone che entrano in KPMG, dopo la laurea, entrano con uno stage. Quindi puntiamo molto sul discorso formazione, che viene fatta sia a livello di formazione proprio tecnica, con dei corsi formativi, sia training on the job, quindi imparare facendo. Da subito il periodo di stage, che è la formula con cui si entra in azienda normalmente dopo la laurea, viene considerato come un periodo formativo, volto a far acquisire alle nuove leve gli strumenti necessari per poter essere immediatamente autonomi nel momento in cui poi si viene effettivamente assunti. Siamo una realtà internazionale, siamo per l'appunto un network internazionale, quindi non lavoriamo soltanto con clienti italiani, ma spesso succede di lavorare con clienti esteri e può succedere assolutamente, soprattutto se da parte ovviamente della risorsa c'è l'interesse a farlo, di svolgere anche dei periodi di lavoro all'estero. Il lavoro di team, come vi dicevo prima, è assolutamente fondamentale, nel senso che non si lavora mai da soli, nonostante il Covid appunto purtroppo abbia reso l'aspetto della condivisione da questo punto di vista un po' meno marcato di un tempo, sicuramente è importantissimo sapersi rapportare con gli altri e porre attenzione alla qualità della conversazione con il proprio team e all'ascolto dell'altro. I progetti appunto sono sempre progetti cross, nel senso che non si lavora mai soltanto su un cliente, ma normalmente i progetti su cui si viene coinvolti sono sempre su clienti appartenenti a diversi mercati. ovviamente si viene valutati una volta all'anno, quindi va da sé che c'è una scrupolosa definizione di quelli che sono gli obiettivi. Abbiamo un anno fiscale, l'anno fiscale comincia il primo di ottobre e finisce il 30 settembre dell'anno successivo. All'inizio dell'anno fiscale vengono stabiliti gli obiettivi con il proprio buddy, che è sostanzialmente la figura di riferimento che accompagna i new joiners fin dal primo giorno in azienda. Vengono fissati gli obiettivi e a giugno, cioè verso la fine praticamente dell'anno fiscale, viene fatta la valutazione degli obiettivi ed è in quella sede che poi si accede alle promozioni, agli scatti di carriera, agli eventuali bonus ed è tutto estremamente meritocratico ed è tutto nelle mani della risorsa sostanzialmente. Quindi è una logica estremamente meritocratica. Qui potete vedere quelli che sono i nostri percorsi di carriera. Allora, come vi dicevo, la valutazione è annuale, si entra con uno stage che normalmente ha una durata di sei mesi e poi a seguire, nel momento in cui si viene assunti, si viene assunti come consulenti. Vi faccio una specifica, le promozioni, ogni livello di carriera, quindi dal consultant all'associate partner ha due livelli, il primo e il secondo livello. Tendenzialmente il bonus anche varia a seconda di quello che è lo step in cui ci si trova. Il consultant potrà avere un bonus che non supera il 15% della sua retribuzione annualorda ma più si sale, più la percentuale del bonus aumenta. Ad esempio, già il senior consultant ha diritto ad un bonus del 20% massimo e così man mano che si sale. Ogni figura appunto presenta un primo ed un secondo livello fino all'associate partner incluso si è dipendenti dell'azienda. I partner invece partecipano agli utili, quindi per i partner il discorso è un pochino diverso. Normalmente la figura del consulente outstanding diventa manager in sei anni. Tenendo presente tutti quelli che sono gli step di carriera, normalmente il consulente modello diventa manager in sei anni. qui potete avere un'idea di quello che è il nostro processo di selezione. Lascio finire la slide. Esatto. Allora, normalmente appunto sicuramente su Audit ci muoviamo molto sulle application online. Ci rendiamo conto che sull'IT advisory è un po' più complesso, nel senso che sull'IT advisory anche i neolaureati raramente si candidano. Quindi molto spesso ci muoviamo con la caccia diretta anche per quello che riguarda i profili neostagisti. Subito dopo c'è il primo contatto telefonico che appunto consiste in una chiacchierata che dura più o meno una quindicina di minuti, dove si approfondiscono alcuni temi come il percorso della persona, la ragione che la spinge ad essere interessata a una determinata tipologia di posizione e in generale all'azienda. A seguire viene fatto un assessment che può prevedere diverse prove. Sicuramente viene sottoposto un test d'inglese, poi a seconda di quella che è la posizione ovviamente per la quale si fanno i colloqui, cambiano un po' le prove che vengono fatte. A seguire viene fatto il colloquio HR one to one, il colloquio tecnico con un manager della linea e poi alla fine se tutto va bene appunto e se il feedback è positivo, si entra in azienda. Questa è tendenzialmente la procedura. Eccoci qua. Allora, come vi anticipavo prima, normalmente chi entra in azienda subito dopo la laurea entra con uno stage. Lo stage da noi non è mai fine a se stesso, nel senso che appunto non esistono stage che una volta conclusi, anche a fronte di un feedback molto positivo sull'operato della persona, si interrompono. Lo stage viene visto come un momento in cui anche noi investiamo delle energie e del tempo per formare le persone. Quindi ovviamente a fronte di una buona performance da parte dei ragazzi, ci piace dare continuità ecco allo stage e si procede con un'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. Come funziona il contratto di apprendistato? Il contratto di apprendistato è come se fosse un contratto a tempo indeterminato, soltanto che è stato pensato per i giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro. Presenta un trattamento fiscale agevolato tanto per la persona quanto per l'azienda, sostanzialmente. oltre a questo presenta un trattamento agevolato, può durare un massimo di 24 mesi e prevede un monte ore di 200 ore, se non erro, di formazione. Al termine di questo periodo il contratto, ovviamente a fronte di una prestazione positiva da parte della persona e a fronte ovviamente anche di una soddisfazione del dipendente sul contesto aziendale, sul lavoro e quant'altro, si converte in automatico in un contratto a tempo indeterminato. Direi che a questo punto possiamo lasciare la parola al dottor Garreffa. Bene, salve a tutti, mi sentite? Immagino di sì. Sì, sì, sentiamo. Allora, appunto mi presento, sono Luca Garreffa, ho 25 anni e sono in KPMG da aprile in stage. In particolare, io sono all'interno della linea di servizio advisory di Nolan Norton Italia, che si occupa appunto della parte di definizione delle strategie IT delle aziende, che generalmente sono i principali player italiani. E appunto la mia linea di servizio spazia su varie industrie, quindi il Consumer Industrial Market, Financial Services, pubblica amministrazione e la parte dove sono io in questo momento di Energy and Utility. Vi dico un attimino quello di cui mi occupo io adesso. Allora, sicuramente spiegarlo non è facile, perché comunque è un lavoro molto vario, non si fa mai la stessa cosa, ogni giorno è differente. Io appunto mi occupo della, diciamo, revisione e re-ingegnerizzazione dei processi IT di questa grande azienda italiana e appunto, diciamo, è da aprile che sono dietro a questa azienda, quindi per adesso ho avuto modo di vedere solo questo progetto, perché comunque è un progetto abbastanza lungo, finirà a dicembre, e appunto io supporto il team sia la parte appunto di management che di staff nella produzione di tutta quella che è la documentazione appunto da deliverare al cliente. Quindi diciamo che fin da subito io ho avuto un impatto su quello che è stato appunto la consegna appunto dei vari lavori al cliente. Sicuramente appunto non è una cosa facile, soprattutto all'inizio quando ci si deve ambientare, comunque appunto l'ambiente è chiaramente totalmente differente rispetto a quello dell'università, però appunto in questo ambiente abbiamo comunque la fortuna di essere supportati fin dall'inizio da delle persone sia di fare livello, che sono i buddy, che aiutano un po' diciamo nelle parti più direi ordinarie, diciamo per tutto, diciamo qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio possiamo rivolgerci appunto a lui, in questo mio caso era appunto un ragazzo con un anno di esperienza in più di me, e poi abbiamo appunto anche un tutor che è un manager, quindi una persona di esperienza, che poi andrà a valutare insieme appunto ai vari manager con cui si lavora durante l'anno le prestazioni, e appunto in base a quello poi ci saranno le eventuali promozioni o meno. Io ho fatto lo stage, ho fatto uno stage di tre mesi extraguerivolare, e appunto sono entrato a luglio, e poi sono entrato ad agosto, e poi a luglio, sì agosto scusatemi, ad aprile, e poi a luglio sono entrato in apprendistato. E appunto ho detto subito di sì, perché sinceramente mi sono trovato molto bene, tra l'altro appunto Nolan Norton è una, diciamo una società piccola in una grande società, perché comunque è tutta controllata da HPMG, però comunque si articola su quattro sedi in Italia, e conta circa 65-70 dipendenti, quindi comunque si fa anche veloce a conoscere tutti, l'ambiente è molto inclusivo, comunque non ci sono problemi a parlare sia col senior manager, sia col partner, o con il collega diciamo di pari livello, e appunto per qualsiasi cosa ci si può rivolgere a chiunque, insomma senza nessun problema. Sono entrato purtroppo nel periodo di lockdown, quindi sono, diciamo che appunto ancora non abbiamo ripreso da andare in modo continuativo in ufficio, però appunto da come mi era stato spiegato, appunto l'ambiente era molto diciamo molto amichevole, anche comunque informale, venivano fatte appunto tanti eventi anche con tutti i colleghi, anche al di fuori del contesto lavorativo, quindi insomma sicuramente è un bel ambiente. Sono entrato con appunto purtroppo in lockdown, e quindi sono andato il primo giorno per andare a prendere, per andare a prendere il pc, il telefono aziendale, e tutti i vari asset, però appunto poi ho avuto diciamo modo di conoscere un po' di persone, però diciamo in modo chiaramente più rallentato, però ecco adesso che sto iniziando a andare in ufficio, già mi rendo conto che la cosa è differente, e appunto quando poi ci sarà diciamo una modalità immagino comunque ibrida, però dove sicuramente andremo in ufficio più volte, sicuramente sarà una bella esperienza, ecco diciamo che vivere in ufficio non mi dispiace assolutamente. E poi ecco diciamo che ci sono un'altra cosa secondo me molto interessante, è il fatto che appunto vengono appunto fatti molti, sicuramente molti programmi di formazione, quindi ciò di cui uno è interessato comunque si può formare, ad esempio la TIT, non vado solamente ad esempio a vedere ciò che sono gli aspetti della mia linea di servizio, ma posso anche spaziare tra vari ambiti, quindi ad esempio quello della parte di BI oppure più di risk, quindi insomma in base a quelle che sono un po' le corde di una persona, ci si può andare a customizzare il percorso formativo. E poi ecco un'altra cosa interessante che ho fatto, che ho avuto la fortuna di fare poco fa, è stato il Network Unboarding Event, e appunto è stato un evento molto bello, fortunatamente è stato rifatto, è stato fatto appunto in presenza dopo due anni, e appunto è stato un evento per tutti i nevassunti, delle sedi appunto, dei principali branch di Capo e Maggi in Italia, e ecco è stato veramente un bel momento, perché comunque stare di nuovo tutti insieme, con 250 persone di pari livello, avere modo diciamo di conoscere tante persone, fare comunque degli eventi e comunque anche dei corsi di formazione dove siamo tutti insieme, diciamo che è sicuramente una cosa che unisce molto, ecco sicuramente. Ecco questa diciamo un po' la mia esperienza, poi chiaramente aspetto anche domande, rispondo più che volentieri a qualsiasi dubbio. Grazie Luca, ora invece lasciamo la parola a Federica Pastore. Sì, sentite? Ok, allora ciao a tutti, io sono Federica, ho frequentato il Politecnico a Torino, ho fatto Ingegneria Gestionale, sia in trennale che in magistrale. Come Luca io sono entrata in Capo a FIMG da neanche un anno, sono entrata però un po' prima a gennaio, perché ho iniziato l'Itardy Recruiting a dicembre del 2020 e poi sono stata assunta direttamente con Apprendistato a gennaio. Io faccio parte del team di RM e sono stata fin da subito inserita a lavorare su diversi progetti, quindi anche su clienti molto diversi tra di loro. Diciamo che non mi è mai capitato di essere, come dicevano anche le colleghe prima, full su un solo progetto, ma anzi in un paio di mesi lavoro anche su tre o quattro clienti diversi, da settore automotive, bancario, anche alimentare, quindi proprio settori disparati. E ho sempre affiancato i miei colleghi che avevano e hanno tuttora maggiore esperienze di me, da cui ho imparato davvero moltissimo e soprattutto in pochissimo tempo. questo perché diciamo che è un ambiente veramente molto dinamico appunto per il fatto di cambiare tanti progetti in poco tempo. Questo chiaramente permette di sviluppare maggiori conoscenze e competenze in tanti ambiti diversi. Io ad esempio inizialmente ero stata inserita su progetti solo di supporto audit, quindi soprattutto per la parte della sicurezza dei sistemi informativi, e poi invece dopo qualche mese sono passata poi ad affrontare altre tematiche come ad esempio, sempre riguardanti l'information security, come ad esempio più progetti in ambito privacy o di continuità operativa. In generale quindi diciamo che l'ambiente è veramente molto stimolante. Il fatto che, come vi abbiamo detto, anche l'età media e comunque sui trent'anni secondo me è veramente un punto a favore. Nel senso che ad esempio anche nel mio team siamo su Torino una decina di persone e tolti magari major che comunque sono veramente molto giovani, noi tutti siamo under 30 e questo chiaramente facilita sia rapporti personali per cui diciamo che si crea veramente un bel clima all'interno dell'ufficio e sicuramente anche molto più facile chiedere una mano e riceverla nell'immediato. Io spesso mi sono trovata magari in difficoltà su diversi progetti anche proprio nelle attività da effettuare sicuramente per inesperienza anche perché comunque uno va poi ad affrontare delle attività che magari le università non vengono mai insegnate, non vengono appunto affrontate quindi è molto importante secondo me trovare dei colleghi comunque delle persone che hanno avuto le stesse difficoltà non dieci anni fa ma magari uno o due anni due anni prima rispetto a voi che quindi riescono proprio nell'immediato a darmi una mano in qualsiasi momento per qualsiasi motivo. Rispetto a Luca in realtà io vado abbastanza spesso in ufficio nel senso che fortunatamente dopo l'estate riusciamo ad andare ci organizziamo fra di noi andiamo magari due o tre volte alla settimana in presenza questo chiaramente aiuta moltissimo soprattutto nel lavoro in team e poi il fatto appunto di lavorare in una multinazionale comunque in una strada che ha così tante sedi anche solo in Italia fa sì comunque che si riescano a conoscere anche colleghi da altre sedi in particolare io sono ho frequentato due corsi di formazione uno a Milano uno a Roma in cui c'erano anche altri colleghi provenienti da altre sedi e questo chiaramente fa sì che l'ambiente sia ancora più simulante insomma e non so se ci sono domande nello specifico Gai vedo che ci sono un paio di domande nel Q&A sotto sì 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 ho visto ok ok allora l'individuo process will be in Italian because we have a lot of Italian customers so it's better to know the Italian languages poi quanto conta il background di studi allora il background di studi conta è anche vero che in questo caso noi valutiamo anche il potenziale quindi ad esempio in questo caso se arrivi da un percorso in ingegneria edile facendo un esempio sulla mia area ma è passione per il mondo a sicurezza informatica e cyber security nessuno lo evita assolutissimamente ne possiamo anche discutere ok vorrei chiedere una cosa riguardo il luogo comune è vero che spesso si lavora fino a tardi io qui lascio rispondere ai professionisti allora la risposta è dipende dal progetto nel senso che io appunto non sono entrata da neanche un anno pieno e comunque sì cioè è inutile dire di no è successo anche di lavorare fino a tardi cioè comunque oltre l'orario lavorativo ecco oltre le sei non tutti i giorni non tutti i mesi non per ogni progetto diciamo che quando ci sono magari delle emergenze o quando magari il cliente richiede degli sforzi ulteriori si fanno diciamo che uno purtroppo può schedulare le attività in un certo modo poi se ad un certo punto queste attività vengono comunque modificate ce ne sono altre e il tempo però rimane quello che è chiaramente devono essere comunque effettuate per cui sì mi è capitato magari una settimana intensiva ecco non mi è mai capitato ad oggi poi non lo so di fare magari un mese intero in cui ho finito alle 10 quello no mai però sì delle giornate o delle settimane per dei progetti magari più impegnativi rispetto ad altri può succedere sì non so Luca se hai avuto la stessa mia esperienza sì allora appunto chiaramente lavoriamo per progetti quindi lavorando per progetti abbiamo dei carichi che non sono ovviamente distribuiti alla pari per un periodo molto lungo avremo delle ondate quindi ad esempio quando poi chiaramente dipende anche dal cliente se il cliente ha delle richieste magari anche dell'ultimo minuto è chiaro che cerchi di di assecondarle per avere la massimo diciamo della customer satisfaction questo assolutamente allora per quanto mi riguarda io ho avuto ovviamente come tutti immagino in questo mondo anche io dei momenti quindi dove appunto a volte mi è capitato un giorno di fare le 10 però diciamo poi ma un giorno ecco su da aprile quindi voglio dire non non è che non è che siamo fissi fino alle 9 riesci a lavorare così ecco quello lo fai nel caso in cui tu avessi bisogno se è una scadenza importante ad esempio nel giro di pochi giorni e che magari il cliente ti ha richiesto qualcosa qualcosa in più di nuovo e in qualche modo appunto devi cercare chiaramente di star dietro alle richieste poi chiaramente anche lì dipende che tipo di richieste sono ovviamente se sono fattibili le facciamo altrimenti è chiaro che chiediamo più tempo e poi ecco diciamo che il carico di lavoro devo dire che per quel che mi riguarda non non lo vedo così appunto terribili ora alle 6 non finiamo in genere però non finiamo neanche alle 8 le 9 c'è un po' questa ave di mezzo dove io vi dico la mia in genere per le 7 e mezzo 7 7 e mezzo ho finito poi appunto ci sono due momenti dove ho finito prima e due momenti dove ho finito dopo però comunque ecco non non si lavora non si non si sputa sangue ecco se vogliamo dirla in modo brutale quello quello no anche perché comunque siamo tutti siamo tutti persone siamo tutti insomma comunque anche i manager comunque lo sanno e anche loro comunque non è che si divertono a farci far tardi quindi quindi assolutamente cerchiamo di essere chiaramente tutti i più efficienti possibili poi appunto se uno riesce a finire prima meglio se poi appunto ci sono quei momenti dove dove non non si può proprio fare a meno si fa si fa più tardi ecco però niente di niente di terribile ecco non facciamo tutti i giorni mezzanotte o le due di notte ecco quello assolutamente ci saremmo già licenziati esatto rispondo anch'io a qualche altra domanda che ho visto qui in chat rispondo a Francesco ingegnere gestionale magistrale senza alcuna esperienza lavorativa ha la stessa possibilità di essere assunto in stage rispetto ad uno con esperienza direi di sì nel senso che ovviamente quando ricerchiamo persone per uno stage non ci aspettiamo che abbiano delle competenze pregresse anzi gli ingegneri gestionali con laurea magistrale li cerchiamo come il pane direi quindi sicuramente sì poi ovviamente se cerchiamo una persona con un po' di esperienza sarà una persona che già prenderemo in apprendistato tendenzialmente normalmente lo stage è una una formula che utilizziamo quando abbiamo a che fare con ragazzi che si sono appena laureati e non hanno nessun tipo di esperienza per quanto riguarda il bonus eugenio il bonus viene sempre erogato no non viene sempre erogato dipende come dicevo prima dalla performance della persona ci sono dei casi in cui come dicevo quando vi ho fatto la presentazione dei percorsi di carriera ci sono dei casi in cui magari si dà un aumento di retribuzione senza dare il bonus dei casi in cui non viene aumentata la RAL ma si dà un bonus o dei casi in cui la prestazione è particolarmente buona e si dà sia un aumento sulla RAL che un bonus diciamo che la percentuale vale non è che ogni volta che uno becca il bonus prende necessariamente il 20% il 15% che è la percentuale massima del bonus può capitare che si prenda un bonus anche un pochino più basso non si può superare se si è un senior consultant il 20% di bonus rispetto alla RAL ma è una percentuale un tetto massimo ecco che poi va a salire man mano che si fa carriera sostanzialmente ditemi se sono stata chiara cosa fate ogni giorno che tipo di documenti preparate in che senso che tipo di documenti prepariamo perché credo che su questo possano essere più d'aiuto i professionisti se volete parto io penso più o meno diciamo ad aver inteso perché chiaramente vedendo la consulenza dall'esterno non è facile capire insomma cosa si fa e effettivamente comunque vengono fatte tantissime cose quindi anche all'interno diciamo non è non è facile avere un quadro completo allora ogni giorno come ho detto prima facciamo cose differenti possiamo avere ad esempio dei meeting con il cliente possiamo avere dei meeting interni con il nostro team per fare ad esempio porto il mio esempio ogni settimana facciamo sia un meeting con il cliente dello stato di avanzamento lavori e facciamo un meeting interno con il team per appunto definire un po' le attività a grandi linee che devono essere svolte quindi anche appunto voltare vari deliverable da consegnare al cliente perché appunto in genere comunque abbiamo spesso tanti deliverable da consegnare al cliente quindi lavoriamo molto a braccetto con loro e io diciamo nella pratica ad esempio ho lavorato molto ad esempio con ho dovuto diciamo supportare nella stesura delle di alcune procedure per quanto riguarda poi i processi che poi devono essere mandati in diciamo in audit quindi lavorato con word poi powerpoint per fare diverse presentazioni però diciamo non solamente chiacchiere ecco perché comunque mettiamo a terra dei flussi quindi comunque dietro c'è tanto lavoro c'è da vedere anche cosa dicono le best practice del mercato come ad esempio ITIL che è appunto quello diciamo il framework di riferimento per quanto riguarda la parte dei processi T poi chiaramente anche lì c'è da capire quali sono le esigenze del cliente valutare ad esempio i flussi che già sono integrati all'interno del cliente capire in che stato sono rispetto alle best practice fare una proposta al cliente cercare di capire se il cliente può andare bene o non può andare bene e in quel caso tararsi anche in base alle esigenze del cliente e poi ho lavorato anche con con Visio poi Excel insomma comunque generalmente tutto il pacchetto Office c'è chi usa ad esempio anche Power BI quindi insomma diciamo c'è una discreta vastità di strumenti che utilizziamo oltre al fatto di vedere diciamo ad alto livello anche tanti tool come ad esempio gli ERP più grandi come un SAP come un ServiceNow insomma quello dipende anche tanto dal tipo di progetto e da e da quali sono le esigenze comunque non è che ad esempio si farà per sempre si utilizzerà per sempre Word o per sempre PowerPoint diciamo spero di di aver risposto insomma di aver inteso la domanda in modo corretto allora rispondo anche alla domanda quanto conta il background di studi e conta abbastanza nel senso che ad esempio per Nolan Norton che è l'area in cui lavora Luca tendenzialmente valutiamo persone che abbiano una laurea in ingegneria gestionale in ingegneria informatica comunque che abbiano approfondito determinate tematiche durante il corso di studi ma non peraltro perché lo so so che il corso di ingegneria per i primi tre anni è standard per tutti gli indirizzi però diciamo che poi se uno prosegue sull'indirizzo ingegneria edile anche per la specialistica diciamo che risulta poi poco chiaro la ragione che poi spinge ad interessarsi a a qualcosa di completamente diverso ecco quindi direi che ha un peso e poi ovviamente a fronte di a fronte di una particolare una giusta spiegazione in base sulla motivazione tutto si valuta ecco va bene allora grazie grazie a tutti e speriamo di rivedervi presto poi alla alla giornata appunto che avremo insieme per poterci conoscere coi colloqui grazie anche a Giulia e a tutti i nostri professionisti appunto che sono intervenuti oggi grazie a voi grazie arrivederci grazie a tutti una giornata un proseguimento grazie a tutti grazie a tutti